Preoccupo all'aumento dei casi positivi al covid nelle scuole di Pescara, dalle primarie alle superiori. A fare il punto della situazione non certo Rosi è il vice sindaco Gianni Zantilli, che si appella anche e soprattutto alla cittadinanza. Allora, la situazione non è semplice. Ci sono dei casi nelle scuole elementari, noi abbiamo 60 ragazzini che stanno a casa in attesa del risultato dei tamponi, ma la preoccupazione più grande è nelle scuole superiori, dove ci sono tante classi in tante scuole di Pescara che stanno già facendo educazione a distanza. Una cosa che mi preme dire, e questa è una cosa che io ho detto dall'inizio, dobbiamo stare attenti, non è finita la pandemia, quindi bisogna continuare a rispettare le regole. La solita cosa che io dico e lo ripeterò fino a quando non ne usciremo, la mascherina, il distanziamento, il lavaggio delle mani, sono le priorità. E poi bisogna rispettare e cercare di andare a vaccinarsi tutti, tutti. Stiamo vedendo che in Italia i casi aumentano giornalmente, abbiamo letto e visto che in Germania, in Austria, addirittura stanno pensando a un nuovo lockdown. Io mi auguro che da noi non succeda, quindi l'appello che faccio a tutte le famiglie, a tutti i ragazzi, a tutti i nonni, a tutti i genitori, e a tutti di rispettare le regole e di stare molto molto attenti. E c'è un'altra questione che riguarda i ragazzi al di sotto dei 12 anni che non possono vaccinarsi al momento. Per adesso non c'è l'ok da parte del Governo centrale. Sembra che ai primi di dicembre arrivi anche la soluzione per questi bambini. E speriamo che lo facciano al più presto, in modo da poter vaccinare anche loro dai 5 agli 11 anni. Collaborazione tra Comune e ASL che ha riattivato allo stadio, nella mattina, i tamponi per gli studenti dalle 10 alle 13. Ieri mattina, d'accordo con l'ASL, è stato riaperto il centro dei tamponi allo stadio. Quindi, in collaborazione con l'ASL, stiamo cercando di far sì che i tamponi vengano effettuati a tutti i ragazzi che hanno necessità. Io questa mattina mi regherò di nuovo all'ASL per fare il punto della situazione.